Casa lavoro, pratiche per la regolarizzazione. Oltre 300 persone hanno bussato lo sportello di soccorso sociale promosso negli spazi del circolo Arci Spazio Condiviso di Calozio Corte. Ovviamente con la pandemia i problemi di marginalità, di emarginazione e anche di povertà sono aumentati e sono aumentati anche gli utenti allo sportello. Poi come diranno Michele e Daniele sono veramente tanti perché in tre anni abbiamo superato oramai 315-320 utenti o comunque accessi e soprattutto durante la pandemia ce ne sono stati quasi 180. Questo dimostra senza neanche leggere il rapporto dalla Caritas di Milano che anche nel nostro territorio il problema c'è ed esiste ed è grosso. Noi lo affrontiamo con iniziative di mutualismo dal basso e soprattutto con iniziative che fanno rete con altre associazioni. Una grande fetta di questi accessi sono italiani, contrariamente a quello che si pensa. Il problema della casa è il problema numero uno che ci siamo trovati da affrontare. La fetta principale invece di utenti stranieri sono per questioni legate per esempio all'emersione e a problemi di lavoro e di richiesta d'asilo per immigrati. Il sostegno dei volontari va ben oltre i confini della nostra provincia con aiuti anche a chi soccorre i migranti sulla rotta balcanica. Soprattutto con l'incendio del campo di Lipa in Bosnia e Zegovina tra novembre e dicembre dell'anno scorso abbiamo iniziato a mandare degli approvvigionamenti sul campo. Come l'abbiamo fatto abbiamo sentito un po' tutte le realtà che anche nel territorio fanno riferimento alla rete rivolta ai Balcani. Sul territorio sono soprattutto Mirsada e qui l'Ecolibera. Abbiamo organizzato dei centri di raccolta in quasi tutto il nord Italia. Al momento siamo a Zanè in Veneto con Iscos e con altre realtà sindacali. Gestiamo una sorta di hub e per un anno tutto quello che raccoglieremo arriverà lì e da lì verrà poi dopo smistato sulla rotta balcanica. Quindi giacche, sacchia pelo, scarpe, tutto quello che serve soprattutto a chi vive il dramma della migrazione all'interno dei campi e chi invece cerca di fare il cosiddetto game quindi sta negli squat e cerca di arrivare in Italia in altre vie non legali.